ti racconto una storia quella di uno degli attaccanti più forti della storia della roma ti racconto la storia di edin geco ecco diciamo che un giocatore del genere non ha bisogno di presentazione 11 agosto 2015 arrivi nella città eterna noi con i bomber ci abbiamo sempre avuto un rapporto diverso più passionale anche se la prima stagione non è stata facile tante critiche ma vedi edin io sono convinto che tutti quanti hanno sempre saputo che sei il più forte di tutti 230 presenze e 109 reti con la maglia della roma credo possa bastare il gol alla juve di testa quello al volo contro il celsi la rete al barcellona ce ne stanno troppe troppe sono state le volte che ci hai trascinato diciamo che i giocatori del genere a roma non passano spesso è pur vero che di cazzate ne hai fatte tante eh prima l'inter e poi la juve e ci hai fatta arrabbiare eh ma il fatto è che noi ti vogliamo troppo bene perché sei il bomber e sei il più forte di tutti quindi io posso dirti soltanto che finché vestirei la nostra maglia saremo dalla tua parte con la speranza soprattutto di alzare qualche trofeo perché roma edin è casa tua ciao Grazie a tutti.